buonasera ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it apriamo con la tragedia di tradate dove oggi si è consumato un altro drammatico incidente sul lavoro tutti i dettagli nel servizio realizzato dal collega marco raimondi con immagini di stefano benvenuti agenzia blizza indossava regolarmente il casco quando è caduto da un trabattello ma questo non ha salvato la vita marco aldrati 52 anni che è morto sul lavoro oggi poco dopo le 11 a tradate l'operaio era dipendente di un'azienda della provincia di bergamo che sta effettuando i lavori nel cantiere edile di via della fornace cortellezzi viveva san paolo d'argon e aveva due figlie dopo la tragica caduta è stato trovato esanime dai colleghi i quali hanno dato subito l'allarme al 112 sul posto sono giunti inviati dalla reu ambulanza e automedica e quindi l'elisoccorso dell'ospedale sant'anna l'operaio precipitato senza che nessuno se ne accorgesse è stato sottoposto alle manovre rianimatorie mentre i carabinieri avviavano le indagini sull'ennesima tragedia del lavoro purtroppo l'opera dei soccorritori è risultata vana troppo gravi le ferite riportate la testa e al torace sul luogo della tragedia pochi minuti dopo le 13 è arrivato anche il pubblico ministero valerianna zini che ha poi dato l'autorizzazione al trasporto della salma e ha disposto l'autopsia passiamo ora all'andamento del covid in regione con 52.497 tamponi processati sono stati 1.584 i positivi accertati dunque con un ulteriore calo nell'incidenza che si attesta oggi al 3 per cento dopo il 3,4 per cento di ieri i decessi sono stati 43 per quanto riguarda i ricoveri nei reparti di terapia intensiva si conta una sola dimissione mentre negli altri reparti le dimissioni sono state 118 nelle singole province milano si attesta quota 424 mentre varese segue con brescia a 169 torniamo sulla cronaca un cucciolo di capriolo è stato investito da una motocicletta sulla provinciale 41 la strada che da marzio scende a ghirla nel territorio di cugliate fabiasco l'animale sbucato all'improvviso dal bosco è stato travolto e ucciso sul colpo mentre il motociclista un trentenne della zona è caduto a terra ma se l'è cavata con qualche contusione e tutti i dettagli sono già disponibili superalpina.it spostiamoci a varese oggi in basilica è stato celebrato san vittore patrono della città al termine della funzione presieduta da monsignor luigi panighetti la famiglia la famiglia bosina ha assegnato il tradizionale premio della girometta d'oro quest'anno il riconoscimento è andato al professor paolo grossi primario del reparto di malattia infettiva all'ospedale di circolo e punto di riferimento nazionale nella lotta al coronavirus dopo la malattia ai vaccini ha detto grossi speriamo che questo sia finalmente l'anno della cura il premio mamma dell'anno è stato invece conferito a giuseppina larghi chiudiamo con lo sport filippo ganna ha vinto la prima tappa del 104esimo giro d'italia di ciclismo una cronometro individuale disputata nel centro di torino su un percorso lungo 8,6 chilometri grazie a questa vittoria il corridore di vignone ha indossato la prima maglia rosa proprio nel giorno in cui aver bagna gli hanno conferito la benemerenza civica in occasione della patronale di san vittore e tutti i dettagli sono già disponibili sul nostro sito questa è l'ultima notizia l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre domani alle 19 una buona serata